Peppe Giacuinto, il proficuo incontro con Feder Consumatori a proposito della problematica del trasporto dei disabili per via marittima? Sì, era una problematica molto sentita, ripeto, raccolto il grido di dolore che veniva dall'associazione di Proci, dall'isola che non isola, per quanto riguarda le difficoltà di spostarsi a terraferma con i mezzi navali, e molte volte costretti a fare tutta l'attraversata chiusa nelle macchine in garage, quindi anche in condizioni di estrema pericolosità per quanto riguarda la sicurezza. E quindi ho interessato immediatamente la Feder Consumatori Campani, con il suo presidente Rosario Stornaiolo e con lo staff legale che sono intervenuti immediatamente su Procida per avviare subito un'azione legale che possa dare dignità ai disabili procidani, ma ovviamente ai disabili isolani della regione, perché ritengo che oggi non possiamo considerare più i disabili cittadini di Sede B, né possiamo attuare verso il loro delle discriminazioni, soprattutto per quanto riguarda il trasporto pubblico. La soluzione quale potrebbe essere? Implementare sistemi di trasporto sui mezzi già esistenti oppure addirittura nell'ipotesi più radicale finalmente rinnovare questi mezzi? Significa appunto rinnovare i mezzi, ma significa intervenire immediatamente, adeguando i mezzi che ci stanno, con sistemi ovviamente di elevatore o di ascensore che possano garantire al disabili di accedere ai saloni e ai servizi, perché dimentichiamoci che ovviamente quando uno resta nel garage del traghetto non ha a disposizione neanche i servizi, quindi questo è veramente assurdo, è veramente insostenibile, per cui dico l'azione legale ci serve per mettere in mora tutti quelli che operano da imprenditori nel corfo, nel trasporto pubblico e quindi sono tenuto a rispettare quelle che sono le direttive europee e ad adeguare i mezzi con cui effettuano il servizio.